L'altro giorno ero a scuola, lezione all'aperto, loro intorno a me, ben distanziati naturalmente, io che leggo un libro e a un certo punto, non so perché, mi viene da spiegare loro la differenza fra senso letterale e senso figurato. Se provateci voi a una seconda media a spiegare che cos'è il senso figurato sapendo che senso figurato nel dizionario è abbreviato così. Lì dovete mettere in conto almeno un minuto, un minuto e mezzo di battutine, risatine, occhiatine e l'attenzione se ne va. Passa quel minuto e minuto e mezzo l'ormone, cala un attimo la sua e provo a prenderla un po' alla lontana, cioè a dire loro che letterale e figurato sono un po' come i due contrari. E allora chiedo a un ragazzo di dirmi il contrario di alto, basso prof, bravo, grazie. Poi vado da una ragazza e le chiedo qual è il contrario di bello e lei brutto prof, brava, grazie. E poi vado da lui, il ragazzino quello timidino, quello pallidino, quello che cerca di nascondersi sempre perché i suoi compagni lo prendono sempre in giro, perché ogni volta che prova a dare una risposta non ne azzecca una, mai proprio. E allora un po' anche per tirarlo su di morale cosa faccio? Gli faccio una bella domanda facile, così la risposta è scontata e gli chiedo dai dimmi il contrario di luce e lui così, pupilla dilatata, come se gli avessi appena chiesto la formula della fusione fredda, non sa dare una risposta, terrorizzato poi e io lo guardo, dai il contrario di luce e anche i suoi compagni si girano, dai il contrario di luce. E lui dopo dieci interminabili secondi, fermo lì, a un certo punto ha il suo momento di, e vai ce la fa, dai vai, il contrario di luce, vai lui, spenta. No, come spenta, come spenta, compagni giù a ridere naturalmente, no? E lo ammetto, lo ammetto che anche a me è venuto da sorridere. Spenta luce, spenta, dai. Però è durato un secondo, perché poi ho avuto come un flash, un'immagine che mi ha fatto fermare e dire a tutta la classe, fermi, fermi, fermi. Il vostro compagno vi ha appena dimostrato che è molto, molto intelligente. Anzi, vi dirò di più. Segnatevela, ricordatevela questa, lui un giorno farà qualcosa di grande. Scommettiamo? Cosa è stata quell'immagine, quella cosa? Bene, il mio intervento qua oggi, con voi, si intitola Elogio del fuoritema. Va bene? E quindi io, per perfetta coerenza col titolo che ho scelto, adesso vi parlo di fiumi. Sì, perché dovete sapere che i fiumi non fanno così. Sorgente foce, non vanno dritti, ma fanno tutti così. Fanno i meandri, tornano indietro, vanno avanti, no? Addirittura c'è stato un professore di Cambridge nel 1987, Hans Heinrich Stolm, che si è fissato, voleva trovare la formula matematica per capire la lunghezza dei fiumi. E la trovò. Scoprì che tutti i fiumi del mondo allungano la strada dalle 2 alle 3,14 volte il loro percorso, quello dritto. Il pi greco, 3,14, torna sempre fuori, accidenti. Prendiamo che ne so il Nilo, guardatelo che bello. Il Nilo è meraviglioso, perché parte che va abbastanza dritto e ci sembra che abbia un'idea abbastanza chiara di dove vuole andare, perché lì il mal rosso, è un attimo, deve solo superare l'acrocorro etiopico lì e lo supera bene, ma a un certo punto guardatelo cosa fa il Nilo, si ferma, si blocca e dice no, io voglio andare nell'oceano atlantico. E parte dritto verso l'oceano atlantico che è a 6.000 chilometri da lì. Aveva il mal rosso lì a poche centinaia di chilometri, no, lui torna indietro. Che è un po' come quando sai, hai quei momenti, no, che dici basta, io domani mollo tutto e vado a vendere pantofole per cani, uguale. E il Nilo però lo fa, il giorno dopo va a vendere pantofole per cani, guardate come torna indietro là. Punta dritto, ormai era lì il mal rosso, ma è solo lì, dopo questo errore molto lungo, dalla cartina non si vede bene, ma lì sono 300 chilometri che il Nilo si fa tornando indietro. 300 chilometri in mezzo, po', se lo fa tornando indietro, ma è lì che capisce dove voleva andare. No, non voglio andare nel Mar Rosso, non voglio andare neanche nell'Atlantico, io voglio andare nel Mar Mediterraneo, come se avesse dovuto sbagliare strada per capire qual era la sua strada e a quel punto è convinto, non lo ferma più nessuno, il Nilo passa attraverso due deserti, una catena montuosa e arriva lì nel Mar Mediterraneo dove darà vita a una delle più grandi civiltà della storia dell'uomo. Ma perché vi ho parlato di fiumi? Non lo so, no, lo so. Vi ho parlato di fiumi perché questa immagine così potente del Nilo che fa tutta questa strada, che torna indietro lì, ecco guardatela bene, questa è l'immagine di come funziona ogni scoperta, ogni nuova invenzione tecnologica, ogni nuova creazione artistica ha dentro di sé quello che si chiama, piccolo o grande ma ce l'ha, coefficiente di serendipità. Che cos'è la serendipità? La serendipità è un fortunato incidente, un errore casuale ma che ti porta poi a scoprire qualcosa di nuovo. Esempi. Colombo che prende, va dritto, no? Cerca le Indie e va a sbattere contro l'America. Serendipità. O Albert Einstein che per settimane si arrovella sui suoi fogli, non riesce a trovare la formula e poi un giorno finisce il suo turno all'ufficio brevetti, va a casa in tram, il tram si ferma e Einstein è colpito dall'orologio del campanile di Berna, l'osserva e gli viene lì il lampo e dice aspetta, aspetta, ma se questo tram schizzasse alla velocità della luce, il tempo lì dell'orologio del campanile andrebbe avanti sempre alla stessa velocità per me? e scopre la relatività, serendipità. Ma alziamo ancora di più Colombo, Einstein, ancora di più Frank Epperson. Questa è la parte in cui fate la grande Frank Epperson, come dimenticarlo? Frank Epperson una sera andò a dormire ma dimenticò fuori dalla finestra il suo bicchiere con la sua bibita preferita, va bene? Poi si svegliò al mattino, c'erano meno dieci gradi, aprì la finestra e inventò il ghiacciolo. Primo ghiacciolo della storia. Ma dai, ancora di più Colombo, Einstein, il ghiacciolo, il Viagra. Il Viagra, anche il Viagra è stato inventato per sbaglio. L'Apfitzer stava mettendo a punto questo farmaco contro l'angina pectoris e lo somministrò ad alcuni pazienti, come si fa in questi casi, per testarlo. I pazienti non guarirono dall'angina pectoris, ma ebbero comunque delle interessanti reazioni fisiologiche che colpirono gli scienziati dell'Apfitzer. Qual è la morale di questa storia? Del Nilo, dei fiumi, Colombo, Einstein, eccetera. Qual è la morale? Che non puoi scoprire niente di nuovo se non sei disposto a uscire dal tracciato. Se non sei disposto anche ad andare fuori dai margini e a pensare anche in modo fuori dai margini, pensare è diverso, il pensiero divergente. Ogni nuova scoperta si basa proprio su questo. Allora, questa immagine ci fa una domanda difficile adesso, però ineludibile. Non possiamo eludere questa domanda. La domanda è, nel nostro sistema scolastico, quanto spazio c'è per chi ha il coraggio di andare fuori? Per chi ha il coraggio di essere diverso, di pensare divergente. Quanto spazio c'è? Io ho trascorso due terzi della mia vita a scuola, tredici anni come studente, quindici come insegnante, e a questa domanda sento adesso di poter dare una risposta. Poco. Molto poco spazio a chi pensa diverso nella nostra scuola. Ma questo poco spazio ti prepara davvero al mondo che troverai là fuori? Eh? Che questa è una domanda importante. E la risposta non è così scontata, eh? Perché fino a qualche anno fa, sì, sì, era un sistema che aveva delle falle, ma funzionava. Tu entravi a scuola a sei anni, ne uscivi a diciannove e più o meno ti sapevi barcamenare nel mondo perché la scuola un po' te l'aveva insegnato. Ma adesso cosa è cambiato? Adesso c'è qualcosa di nuovo. Vi faccio un esempio per capirci. Io ho fatto la prima elementare nel 1983 e sono uscito dalle scuole superiori, ho fatto la maturità nel 1996. In questo arco di tempo, quanto è cambiato il mondo? Sì, è cambiato un po', ma non tanto, vero? Non così tanto. Avevo ancora la certezza di trovare là fuori quello che avevo visto entrando per la prima volta, ma adesso occhio all'esercizio mentale più difficile. Siamo nel 2020, no? Dovete fare 2020-13, andare al 2007 e dirmi, se vi ricordate, anche voi come me, gli pterodattili nel 2007. Cioè, quanto era diverso il 2007, che sembra, vero? Cioè, una prova empirica, eh, non è niente, ma è una prova empirica, però, che secondo me vale. Io nel 2007 avevo ancora il Nokia 3310. E la cosa bella è che l'ho lasciato acceso nel cassetto e ho ancora due tacche di batteria. Grazie. Quindi, cosa succede? Cosa cambia adesso? Cambia che circa il 40% dei lavori che ci saranno nel 2033, quando usciranno da scuola i bimbi che entrano quest'anno per la prima volta a scuola, oggi neanche esistono quei lavori lì. Neanche sappiamo che cosa ci sarà. Come fai a preparare? No, qualcuno verso qualcosa che neanche sai che cosa sarà. Due. C'è un altro problema. Ci sono sempre più mestieri, professioni, lavori che le macchine e gli algoritmi sanno fare al posto nostro molto meglio di noi. Un solo esempio. Hanno appena messo a punto in America un algoritmo, un'applicazione che sa correggere i compiti in classe. Cioè i temi, non i test, quelli con le croce. I temi. E lo sa fare bene quanto l'uomo. Io verrò licenziato da un algoritmo. Qual è l'unica salvezza in un mondo in cui tutto diventa automatico e dove le macchine ti possono sorpassare da destra e portarti via al posto? Come fai a salvarti in un mondo così? Tenendo sempre vivo e più a lungo possibile il tuo lato umano. Imprevedibile. Il tuo lato che ti fa fare così e andare verso l'Atlantico per dribblare e poi trovare la tua strada e andare verso il Mar Mediterraneo. Tutto ciò che è la nostra parte creativa. Ecco come funziona. Ecco come ce la fai. Ecco come li freghi. Solo così. Ora, vi faccio vedere un'altra cosa. un grafico che rappresenta un livello minimo e un livello massimo di qualcosa. A metà c'è la media oxe cioè il livello medio è una rilevazione fatta fra i paesi oxe quindi i paesi occidentali e vediamo dove è l'Italia in questo bel grafico. Oh! Finalmente siamo fra i primi in qualcosa. Eh? Cioè dopo tutte le volte no che l'Italia sempre ce n'è rentola no? Fa bene vedere che in qualcosa siamo fra i primi. Questo grafico rappresenta l'indice di ansia scolastica. Siamo uno dei paesi fra i paesi occidentali dove gli studenti provano più ansia mentre sono a scuola. Ora dobbiamo fare una cosa molto difficile. Chiunque vive nella scuola anche i genitori presidi tutti dobbiamo fare una cosa molto saggia senza allarmismi senza fare scandali ma guardarci negli occhi e dircelo i nostri ragazzi e le nostre ragazze a scuola stanno male non stanno bene ed è importantissimo che stiano bene perché non impari niente se vivi nella paura e nell'ansia non puoi portare niente dentro di te se vivi costantemente nel terrore di essere sbagliato nel terrore del giudizio dell'insegnante dei compagni di deludere le aspettative dei genitori e di chi ti vuole bene come fai? L'ansia è buona solo quando è episodica allora si chiama ansia fisiologica ed è molto utile perché ci dà forza ci sveglia i riflessi ci fa essere più pronti quindi prima di una prova prima di un esame prima di uno spettacolo teatrale di una gara ma quando da episodica diventa costante l'ansia blocca tutto blocca tutto ed è come essere costantemente col freno a mano tirato e non riuscire ad andare alla velocità che vorresti e allora io qui oggi con voi non vi ho portato un progetto non vi ho portato una fondazione io molto umilmente vengo qua e vi porto solo un'idea un'idea l'idea è questa l'idea di scuola che io voglio immaginare per il presente e per il futuro io ero un pessimo insegnante all'inizio io ero proprio quel tipo di insegnante che esigeva che gli studenti rispondessero quello che io sapevo già che lo studente bravo per me era quello che eseguiva i compiti no? scuola del passato ecco adesso anche grazie a quei momenti lì epifanici no? ho capito che no non funziona così e che la scuola che immagino cerco di mettere in pratica è una scuola dove lo studente bravo non è quello che ripete quello che tu hai detto no? non è quello che ti dà risposte che tu ti aspetti no? lo studente bravo è quello che ti sa fare le domande lo studente bravo non è quello che ripete a macchinetta quello che c'è nel libro ma quello che ti sa dire cosa pensa lui di quello che c'è scritto non è quello che sa stare sempre in tema perfetto dentro il tracciato no ma quello che ha qualcosa di interessante da dire quello che lo sa dire bene ciò che ha da dire di interessante lo studente bravo è anche quello che non è lì per le interrogazioni non è una scuola dove si fanno interrogazioni ma è una scuola dove ci si pongono interrogativi dove per esempio non è importante cioè no faccio un esempio a caso la forma attiva è la forma passiva del verbo punto no ma ti chiedi io in cosa sono attivo e in cosa sono passivo nella mia vita lo studente lo studente che sa pensare diverso è lo studente migliore che c'è è questa la scuola che sogno una scuola che che sia fatta esattamente come come questo disegno qua e quindi quello che vi porto l'idea che vi porto è un domani che comincia già adesso in cui lo studente bravo della classe è quello che se gli chiedi qual è il contrario di luce lui ti risponde spenta grazie